pronto e inizia Svizzera-Indulterra con Harry Hillam in possesso intanto deve fare Indulterra ora taglia il campo Darbashir lascia palla a Sharp che scivola, risca qualcosina infatti recupera la palla alla Svizzera con il proprio numero 7 conclusione e Sian Disley trova il gol per la Svizzera dopo nemmeno 4 minuti di gioco la Svizzera blocca sblocca con il proprio capitano in un errore di Dibashir la conclusione da dentro l'area di Dibashir da parte di Sian Disley quindi è la Svipa di verso Dibashir Dibashir dietro porta, cerca, alza e schiaccia che gol, grandissimo gol da parte di Marco Dibashir dal doppio svizzero a 14.53 al termine del primo tempo rivediamo, dall'alza e schiaccia sul primo palio Dibashir scambio con Dibashir e ora Panner posso vedere Rist servito ecco la conclusione da fuori e trova il gol Sian Disley per lui è doppietta 3-0 per la Svizzera conclusione potente sotto l'incrocio da parte del capitano Svizzero Sian Disley lo scatere dei 45 secondi dalla propria metà campo riesce a trovare l'incrocio dei pali non probabilmente neanche la vede partire Alex Klaak può fischiare Hyde parte Pahud la finta si allarga sulla sinistra Pahud bravo Klaak a 8.56 al termine si prepara il portiere Svizzero parte Hillam la finta Hillam ancora Zug a rispondere viene poi alzata dal guantone di Zug poi Sharp pari una crema non buona attenzione a Semilor davanti a Zug Semilor trova il gol Thomas Semilor a 3 minuti dalla fine arriva il gol del 3-1 firmato Thomas Semilor lo rivediamo qui in un contratto un po' dubbio tra Sharp e il giocatore della Svizzera poi bravo Semilor che cerca di beffare Klaak sul primo palo insiste la Svizzera Pahud pressato da Sharp Pahud mette il corpo davanti ancora Pahud gran gol quello di Lucas Pahud ritorna più 3 la Svizzera è 4-1 grandissimo gol quello di Lucas Pahud mette il corpo davanti difende Sfera e infila Klaak sul primo palo rivediamo qua corpo davanti e poi accompagnata sul primo palo Svizzera 4 l'Inghilterra e qui termina il primo incontro la Svizzera si aggiudica i primi tre punti di questo europeo battendo l'Inghilterra meritatamente per 4-1 le doppiette firmate da Lucas Pahud e Sian Disli non può l'Inghilterra